Insieme era stata decisa l'esperienza. Entità A, attraverso Corrato Piancastelli, il caso dell'entità A, domanda Possiamo parlare un po' di te? Sappiamo che sei anche la guida del nostro medium. Nel 1930 lui nasce e tu ti avvicini al suo corpo. Come hai vissuto spiritualmente o esistenzialisticamente questo contatto con un corpo vivente? Entità A, ho percepito ciò che chiunque come me, avvicinandosi ad un corpo vivente, può provare se ha provveduto a convertire se stesso in una struttura animica. Su questa struttura, fondamentale per tutto, si dovrebbe parlare molto a lungo. Per percepire la terra infatti è necessaria l'anima, senza la quale lo spirito e la materia non possono incontrarsi. L'anima è una energia funzionale che avviluppa in senso reale lo spirito. Attraverso quest'anima lo spirito percepisce i movimenti del pensiero del soggetto a cui si rapporta, il nostro medium nella circostanza. E si serve del corpo vivente per analizzare, penetrare, riacquistare il contatto con la realtà o parte di essa. Ma le cose non sono tanto semplici come appaiono dalle parole, anzi, sono molto difficili. Per questo motivo comunicare avvicenda è cosa rara e delicata. Io ho vissuto questa esperienza di contatto con la nascita del medium in modo programmatico, tenuto conto che insieme era stata decisa l'esperienza di questa medianità. Per programmatico intendo che si sono predisposte varie cose affinché tutto si svolgesse in modo conforme alla decisione e naturalmente ho vissuto parzialmente una specie di nuova incarnazione con problemi che non capireste mai. Voglio ancora ripetere che il rapporto fra uno spirito e il corpo è una cosa difficilissima e sbagliano coloro i quali emotivamente e con incredibile leggerezza vogliono vedere spiriti e fantasmi ad ogni angolo del mondo. Benché ciò suoni paradossale, il rientro nella dimensione umana per noi coincide con una regressione nella morte. Solo la morte del corpo viene al contrario, vissuta come una liberazione. Almen che, come nel mio caso, tutto ciò non venga predisposto in funzione di uno scopo preciso.